Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi un video approfondimento sul multiplayer di Call of Duty Black Ops 3. Infatti, come non mai nessun Call of Duty, le specialità hanno fatto la differenza. Se avete notato su Call of Duty Black Ops 3, quindi titolo sviluppato dalla Treyarch, le specialità hanno un ruolo veramente importante all'interno del gioco. Una volta erano le armi, una volta era il silenziatore, una volta erano gli accessori, una volta era la serie di punti. In questo Call of Duty Black Ops 3, a mio avviso, le specialità fanno la differenza. E tre specialità, in particolar modo, sono quelle più importanti per vincere proprio le partite. Molti diranno, sì, sono specialità da nabbo. Alla dico, perché le hanno inserite? Cioè, perché sono andati a inserire queste specialità che vanno ad aggiungere un qualcosa di più a quello che già riesce a rendere il giocatore nel multiplayer? Andiamo a vedere quali sono le tre specialità. Ve ne dirò una per categoria. Partiamo nella specialità 1 con il sesto senso. Infatti, se notate, tantissime persone giocano con questa specialità che permette di visualizzare sulla mappa la direzione dei nemici circostanti. Quindi, tante volte, riusciamo a capire, anche se non li vediamo arrivare, i nemici da che parti stanno arrivando, se ci stanno, ad esempio, colpendo alle spalle. Come seconda specialità, il tracciante. Ci permette di visualizzare per terra, e quindi in maniera digitale, i passi dei nemici. Quindi, se un nemico è passato davanti a noi, oppure in una strada adiacente alla nostra, riusciamo a capire dove sta andando quella persona. Terza specialità è percezione ambientale. Ragazzi, se utilizzate percezione ambientale, vi renderete conto di stare a giocare a tutt'altro gioco. Infatti, i movimenti dei nemici si sentono con molta più facilità e sembra veramente di avere le persone dentro a casa. Una specialità importantissima. Ovviamente, ognuna di queste specialità ha una contromossa. Nel caso in cui voi attaccaste, potete utilizzare appunto queste tre specialità. Nel caso in cui trovate una squadra che utilizza tantissimo il sesto senso e il tracciante, ovviamente vi consiglio roba forte, che ovviamente vi conferirà immunità a tutte queste due specialità. Per quanto riguarda invece la percezione ambientale, la potrete limitare con il silenzio di tomba. Quindi, come vi diceva all'apertura del video, in questo Call of Duty sono state introdotte delle specialità che rendono il giocatore più forte rispetto a quello che praticamente potrebbe essere. Perché uno gioca normalmente, che ne so, uno aveva acciaio, uno aveva corsa infinita e via dicendo. Mentre queste specialità vanno veramente a dare un qualcosa di più al giocatore per renderlo quasi invincibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate in merito a queste tre specialità nel multiplayer di Call of Duty Black Ops 3 e ovviamente rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.